Allo qualche vocello del gruppo non unì ha commentato che la comunità di Aruba non tiene miedo di cambio. Cambio porta bene, lo qualche gruppo non è preparato per presentare la SMAC, tra l'altro un'agenda nuova per l'apertura di Carnaval Gesù di Gesù, però anche cambiano durante il periodo di Carnaval. Non è chiaro di divulgare molto, però è assicurato che la temporada lo ha messo largo, lo ha messo un candidato di parada, però è assicurato che la separazione con 60 anni di un oltre motivo non è possibile. La temperatura di Parade e la parada di Munche di Norte lo ha messo la feccia. Lluvemorning lo non cambia di feccia, però si lo prospera cambio dopo la lluve. Di una temporada cortico, lo ha messo anche un domingo libero e un già verano libero. Tambi ha commentato che lo può separare, spera, cambiano grandi, per lo quale cosa tratta, elezioni di reina e prenscopancio. Noi chiedi a comparti ma di camion, che può sperare arriva e accendere un nuovo Paco Carnaval, che è stato un'approvazione naturalmente di SMAC. E ora non è il turno, non lo ha annunciato in dettaglio nel suo debito momento.